Zio, io ti dai qua, guarda. Dov'è? Le zilinx? No. Ah, Tilted va bene. Tilted? Va, Tilted, che è un po'. Dopo sto game ringrazio tutti, boys. Vai, vai, go, go, go. Prossima settimana mettono una nuova minigun che spara colpi pesanti, cioè colpi del fucile a pompa, secondo me. Una minigun? Sì, sì, secondo me la mettono. Non è abbastanza sgallo. Prendi quella mitraglietta. No, la prendo e la prendo io, vai. La prende e mi fiorgo dal tizio. Oh, ma lui è un nemico. No, ma pensavo che eri tu. C'è un tizio qua sopra. One shot. No, se la tirai di in basso. L'hai preso? What? Sì, è morto. Ok, quanto arriva del ritardo il coso. Come mai hai preso una scatola di munizioni, Fra? Eh, no, succede. A volte succede. Si cambia. Ma... Ho visto che ho più di senso. Ho un pompa, finalmente. E' one shot l'altro. Ok. Sto salendo sopra? Ah, io sono sotto. Sto avendo la disperazione nei suoi occhi. Siamo messe con re. Giorgio, io non so aiutarti, eh. Non ho altro. Ok, adesso c'è l'arma. Sì, ma c'è gente sotto. Ah, guarda dove sono. Qua da me! WTF! WTF! Ma ma che mi voleva finire. Un strunzero. Io ti ho visto sparare a me e mi sono girato di schiena, infatti. Mi sono spaventato. Ma perché era dentro. Prendo un secondo un'arma che ovviamente non c'è munizioni se ci ingaggia un team siamo morti. Prende un pochino quello che c'hanno queste persone che... Vecchio, ma era al tuo posto. Si è sceso? Eh, non lo so, forse ha laggato, eh. Perché è veramente impossibile sta cosa. Mi sa che c'è... Io c'ho delle bende. Ok. GG. Sì. Adesso io ti do un'altra cosa. Che così almeno andiamo un pelino pari. Vieni. Oh, eh, giocelo. Ok. Oh, c'è gente. Ciao, io entro. Mamma mia, la droppa. C'è il medikit qua. Io dro. Ti stanno sparando con un altro demmo. Sì. Allora mi curo intanto. arrivo su adesso il 90 uno di loro trovo il p90 e non cado c'è un altro qui sotto ecco l'ho uscito fuori città da morte vaffanculo va andrà ha tolto tutto tutto lo scudo che aveva un altro come un altro saltiamo le granate sopra sopra la particola cassa nella parte destra non sopra di dell'altra vieni qua piano di l'uomo medica c'è pure una come si dice una bozzetta ci tiriamo il falocchi ci tiriamo il falocchi scusami ok questa arma ufficialmente non rotta non mi balla ok qua c'è anche il tacco 2 preso preso oh pozzette qua prendetele pure ok ok ma zio ma io ha il ruolo di indebolirti tu puoi dare colpo finale io quanto ero sotto io ero sotto nascosto sono uscito fuori tipo tipo bella ragazzo tutto 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 o regalo me va tutto apposto ma che se fa se vai da te vai da bella bro non hanno allo stato di sconamato lo va a lasciare valore tale mio tempo penso che sono morti c'è gabbro c'è davvero abbiamo noi che si dunque ti giuro io in questo gioco odio quando c'è la notte aspetta un secondo non mi fermo non c'è la nuova notte ti giuro l'audio progettato o ciò che hanno riftato a vedere se arrivano la luminosità c'è mio quando c'è il momento di notte proprio muoio dentro ciao davanti è vecchio sente loro parlacaduti sono ovest cazzo c'è un altro team dietro sono due team due team un team a ovest e uno a sud io sto andando indietro ma chi cazzo bello preso quello dietro la macchina e quello sotto i d c'è un altro team ma un cecchino un cecchino da 340 risa ma è proprio sotto di mezzo per te che lo sciolgo dov'è il cecchino due dieci per anche scendo giù da qua scendendo da te giorgia si vieni vieni sto prendendo le munizioni che poi sono richiesta struttura ok già la seconda volta che casco bene io non è incredibile che tutte le volte che mi spongo io ma guarda che ci sono le giornate in cui c'è questa sfiga perché capito la stessa cosa a me faccio ciao davanti mi sto curando tranquillo 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 al p90 ok operativo fatto uno bravo giorgia gg chi c'e c'è merda qua c'è due medici ti ho io porsette qua a cazzo c'è chi namerò voglio il medio di teni una bozzetta andiamo merda ok mi sono fatto male voglio vedere cosa c'erano gli altri che non hanno lottati Vabbè, ragazzi Ah, qua c'è un altro medikit, qua lo prendo Se vuoi stacco la macchina Eh, vai, vai, no, ma me lo porto che non ho cura Ok Non la sei fatta accata Buono Meno male, oh, una gioia, cazzo Eh Ma una gioia Un altro medikit, va, qualsiasi me lo tiro No, vabbè, me lo tengo, però Sì, tiratelo, zio, tiratelo, tiratelo Così tanto siamo... io ce n'ho un altro Eh, ma non voglio rischiare, capito Lo porto così per ora e vediamo Servono i materiali, più che altro Cominciamo a fare un po' dei materiali, io sto solo a 300 Quei due medikit sono altamente disturbanti Per la striscia viola Allora, zio, li vedo Where? Però sei lontano Dimmi dove, dimmi dove Sono a nord-est Tipo qua? Sa che mi hanno visto Esattamente lì Ok Non so come tu abbia fatto, ma gli hai pingato Io o meno, aspetta che uno lo... ah, merda, si è mosso Mi hanno visto C'era uno fermo, cazzo, lo stavo per check-inare Ah, stanno salendo su Li vado a chiudere in 6 Sono due no skin, eh Però sanno giocare giù Sì, sì, uno è fermo Oh, di poco Pensato Sono sopra di loro io Sì Sparagli se puoi con la R, eh Te la puoi Sì Va bene Non sparo più Dammi una mano a pullarlo Non sparo più Guarda che mi ha fatto Che cazzo mi ha fatto Comunque, zio, ogni tanto si buggano i suoni dei... Dei passi, secondo me E non si sentono Sì, sì, sì No, 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 si sentono altri passi Come se ci fosse qualcuno intorno Ah, allora, ok Perché l'altro giorno mi è capitata la stessa cosa Cioè, prima in streaming mi è capitata la stessa Ho detto, rica, ma io ho sentito accanto a me uno E non c'era nessuno Dopo che hai ucciso uno, ve? Ah, sì Mi è capitato ieri Proprio Conta oggi pomeriggio Cazzo, quello mi ha tirato una botta Non so con quale arma Guarda come sto messo Sì, va Dai, andiamo a farsi anche di cildini Sotto di noi, sotto di noi Due persone Cado uno Alla tua sinistra All'altra in mezzo al divot Sta salendo sopra una delle scale Che danno sul divot Vittato Vabbè, frullalo, frullalo È tuo GG Disintegrato, farà Un altro? Eh, no, vedi il bug Perché? Ti va altri passi, zio Infatti mi sono preoccupato Come se fosse accovacciato Oddio, due pozzette, sì Lo che c'è davvero? Eh, vieni adesso come non so Ho lasciato il medikit Ok Vai, GG Intanto, intanto, intanto C'ho le nuove ferre del marzone, zio Quello è leggenda È diventato veramente un meme italiano Quella cosa Sì Vecchio, ma io posso farti una domanda Ma quando eri qua Dove sei esattamente tu adesso, no? Mhm Che Eri a 19 kill Che come, come stavi? Nella mia mente dicevo Questo qui lo disintegro Porco due Lo spacco Sono arrivato subito con lanciarazzi Infatti Ho detto Questo lo devo ammazzare Il più velocemente possibile Prima che fa qualcosa di strano E si suicida Dentro di me Io pensavo che lui si suicidava Era quella la mia paura Minchia, ma sai te Che sfiga Mamma mia Mi metteva a piangere, te giuro Ero troppo incazzato Mi tremavo Cioè io stavo a volanza per te Conte i fanatic Poi mi hanno scritto in private Mi hanno detto Guarda abbiamo visto i problemi Che hai avuto Non ti preoccupare Faremo in modo Che tu non avrai più Questi problemi Nella tua vita Mi hanno detto Guarda ci dispiace troppo Ti abbiamo visto i problemi Che hai avuto Anche se non abbiamo capito niente Però si è capito Che stavi delusissimo Ah no Stato davanti a noi Vai buttiamoci Che c'è una festa là Yes Mi hai gusto Madonna Eh lo dico perché Io ormai sono entrato Nella sua soundboard Ormai fai parte Della sua soundboard Sei tutt'uno Tipo il matrix Ah ok Li vedo Due est E due quadranciano Basta adesso faccio Una cecchinata Ancora devo farlo oggi Io sto rubando Il loot alla gente Ce l'ho davanti Oh mio dio Che uno si è fatto male Con la mia caduta Uno sotto di me One shot Che l'ho fatto Inca l'altro team Ok Alta gente davanti a te A sud Watch out Gabbo In qua ci stanno Due pozzine 50 Tu c'hai Pozzente Stanno qua Tieni la pozzine 50 Alla GG Con quest'arma è sbagliata Sbagliata Domani Domani la tolgono No Ti giuro Io la prendo E la gente non esiste Cioè Si scioglie Ma Ma Si faccio Dovente Bomb Attenzione I kill game Ma te li rubo Oddio Allora ti li metto One shot No Ma sto facendo Tutta la partita Sono sarò io A venti Adesso Ah Vi qua Vi qua Vi qua Vi facciamo Il cosa Così ne andiamo A cercare Cos'è andato Uno l'ho visto Di casco in testa Appera Ma Sì Ma Non c'è una casa Ah 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 No Era l'ultimo Ah Non avevo capito Lo Niente Ricarda Ora Con il mio paracaduto Zio Ma non ho capito Che stava facendo Era chiuso in un angoletto Che faceva tipo qualcosa Si era chiuso Vabbè GG GG Boys Ripa 10k euro C'è la chat che scrive Ripa 10k euro Do Cré B R C'è rien C'è Zio C'è C'è B C'è 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 Grazie.